Amici e amiche del Sunshine Video Blog, benvenuti a questa nuovissima puntata, puntata natalizia e oggi è il 20 dicembre quindi volevo così colgo l'occasione per fare a tutti dei serenissimi auguri di Buon Natale e Buone Feste e poi finito il filmato ci sarà anche una brevissima chicca del Natale 2005 con protagonista Gigi Datome e per cui no, no no se vi state chiedendo se questo è uno dei miei tanti travestimenti non sono né vestito da Piermin Zubrigan e tantomeno da Hancock se no dovrei avere i superpoteri mi ero dimenticato e state sereni sempre che vanzada Io voglio te ancora Io voglio te ancora Io voglio te ancora In i miei sogni Ma, sui te le dimenti Io voglio te ancora Io sono Pitu Bull E io sono Mala Pitu Bull Io sono Pitu Bull Io sono Pitu Bull Grazie a tutti